Vice segretario federale Stucchi, che cosa ne pensa della decisione di Berlusconi di non candidarsi più? Non è una sorpresa, nel senso che con questo gesto Berlusconi vuole fare un altro colpo di teatro per favorire un rinnovamento della classe politica e soprattutto per vedere andando a sparigliare quale saranno le reazioni degli altri partiti. Sicuramente è un passo importante perché segna la fine di un'epoca, definiamola così, all'interno del panorama politico del nostro paese. Un passo indietro, ha detto, per riunire tutti i moderati? Un passo di lato, più che un passo indietro, un passo per vedere come reagiscono tutti gli altri partiti, soprattutto quelli più vicini al PDL o a quello che resta del PDL. La Lega guarda, diciamo che noi abbiamo assunto una decisione, che è quella di una corsa autonoma e che se dovessimo modificare opinione dovremmo farlo solo e esclusivamente dopo l'ascolto della nostra base tramite un'assemblea federale. Oggi però a noi interessa poco questa scelta di Berlusconi perché comunque il suo obiettivo sono altri partiti alleati con lui fino agli anni passati e non sicuramente la Lega. Soprattutto dopo che Berlusconi ha detto che non esclude un Montibis. Ma a maggior ragione, io direi, visto che se il candidato di questa nuova coalizione con Berlusconi che fa un passo di lato dovesse essere Mario Monti, noi assolutamente faremmo la nostra bella corsa solitaria, orgogliosi di quello che siamo.